numero 5 la penna ad alto livello consente di ottenere linee precise durante la creazione digitale con la tecnologia senza batterie non è più necessario caricare la penna o sostituire la batteria sono disponibili 8 tasti a scelta rapida da personalizzare in base alle proprie abitudini creative come lo zoom lo scorrimento verso l'alto e il basso e altro ancora per accelerare l'efficienza del lavoro il monitor da 11 pollici è facile da trasportare ovunque sia necessario il costo è di circa 200 euro numero 4 la nuova e più piccola tavoletta grafica con schermo hd ti regala immagini vivide dai colori brillanti e con estrema cura dei dettagli per un'alta resa dei tuoi lavori artistici presenta uno schermo di 11 pollici dotato di sensibilità alla pressione e un rivestimento antiriflesso la tavoletta è dotata di sei tasti di scelta rapida personalizzabili e una barra tattile che può essere programmata per lo zoom la sua penna digitale non ha batterie e non necessita di essere ricaricata il costo è di circa 229 euro numero 3 schermo da 13 pollici a laminazione completa antiriflesso con questa tavoletta grafica ti sembrerà di disegnare su un pezzo di carta la tavoletta viene aggiornata alla penna senza batteria a quattro tasti di scelta rapida personalizzabili e una uno barra touch per migliorare l'efficienza del lavoro in modo efficace ed efficace l'altezza del sensore è ai massimi livelli del settore un regalo perfetto il suo costo è di circa 270 euro numero 2 il display interattivo wacom one ha dei software creativi inclusi puoi collegarlo a uno smartphone android usa questa tavoletta grafica come estensione portatile di uno smartphone android o come dispositivo compatibile con il tuo mac o pc windows lavora liberamente come con la penna su carta i piedini ripiegabili sono ergonomici e la penna sullo schermo ha un lieve attrito naturale che offre precisione e controllo il suo costo è di 370 euro numero 1 xp pen tavoletta grafica schermo full hd da 15 pollici design rivoluzionario rispetto a tablet grafici tradizionali con 8 tasti di scelta rapida lo schermo è antiriflesso il display ips completamente laminato offre un'eccezionale precisione del colore la stilo ti darà una notevole fluidità e sarà come disegnare su carta compatibile con windows mac e funziona con i principali software di grafica come photoshop paint illustrator clip studio e altro il costo è di circa 440 euro